Buonasera a tutti, siamo in diretta su Radio R9 dal Bluemax di Tortore Torito, questa serata latinoamericana un po' tutta movimentata, un po' tutta particolare, questo venerdì sera ho il piacere di parlare con... Fabrizio Arrubio Allora Fabrizio, descriviamo un po' com'è la serata questa del Bluemax, tu ti occupi dell'animazione, quindi tutti i ragazzi che tra poco saleranno sul palco e poi faranno ballare le persone qui nella sala, una grandissima sala, quindi ci sarà spazio per tutti Spiegami un po' per chi non conoscesse il Bluemax, come funziona la serata e come poi verrà svolta tutto quello che succede Siamo ancora nel momento di riscaldamento, ancora gente piano piano comincia ad arrivare, poi adesso cominceremo con un pochino di chizomba, un pre-serata, un ballo nuovo che si è inserito diciamo nel mondo caraibico Poi cominceremo con la serata, con i soliti balli, baciata, merengue, salsa, poi avremo un momento di balli di gruppo dove faremo un po' di casino tutti insieme, i soliti balli che si fanno sempre Questa sera abbiamo anche uno spettacolo, sono dei ragazzi di Roma che vengono qui, sono i Latin Mod, vengono per conto dell'evento People Festival, è un evento che si fa in Calabria Noi questa sera siamo come promotore di questo evento, uno dei più grandi in Europa, saluto Vincenzo D'Amato però anche se non mi può sentire, magari dopo mi vedrà Niente, adesso stiamo iniziando piano piano, la gente comincia ad arrivare e niente, si balla Si balla, ci si dimena, ci si diverte, ma quanti siete nel gruppo della vostra scuola? Siamo parecchi Tanti? Diciamo dai 10 ai 15 Ma li hai portati tutti questa sera? Sì sì sì, sono tutti presenti Quindi quante ore fate di lezione al giorno per organizzare un po' il tutto? Ne facciamo, almeno tre ore ce le vogliono al giorno, e pure allenamento quindi È buono sì, il ballo fa dimagrire, serve sempre, siamo in procinto dell'estate, quindi diamoci dentro La prova costume è vicina quindi Vabbè allora quindi dopo mi tocca dimenarmi anche a me, la devo fare anche io la prova costume Devi fare il balletto con noi dopo Va bene Ti faccio fare il ballo con tutti quanti i ragazzi Va bene, vieni a prendere tu quindi Come no, come no, promesso Ok va bene, allora facciamo un saluto per gli amici di Radio R9, li invogliamo a venirci a trovare questa sera al Blu Max Quindi faccio chiudere a te, invogliali tu così corrono numerosi Vi aspettiamo qui a Blu Max Venite a ballare, ci divertiamo, un locale strepitoso Tutto da ballare, un venerdì latino Il venerdì latino in diretta su Radio R9 dal Blu Max di Tortoreto Lido Quindi vi aspetto a tra poco amici Siamo in diretta su Radio R9 dal Blu Max di Tortoreto Lido E ho trovato un bel gruppo di persone che si stanno, anzi adesso rilassando prima che inizia la festa e il delirio Buonasera Buonasera a tutti Qual è il tuo nome? Domenico Domenico come va la serata? Mi metto qua un attimo seduta anch'io, guardami appollaio Come va la serata adesso? La serata è appena iniziata, è tutto un programma, dobbiamo capire poi com'è l'andamento È la prima volta che venite qua? Brava, è la prima volta, è quasi per tutti Bene, è un bellissimo locale, avete visto quanto è grande? C'è spazio per tutti, quindi vi potete dimenare come non mai È vero, è grandissimo, oltre ogni aspettativa in realtà Bene, ma qual è il ballo preferito? Hai scelto il latino americano, ma ci sarà un ballo tra i balli? Noi siamo tutti abbastanza bravi e anche maestri, siamo certificati maestri, giusto? Per noi la salsa è la vita, diciamo, è una cosa importantissima, ma noi la mangiamo, la mastichiamo come se niente fosse La salsa del sugo, uguale? È uguale, come la salsa del sugo Va bene Mi riferivo a quello praticamente Da quello, ma tu dici la mangiamo, la gustiamo, ci sta Va bene, quindi devo aspettare di vedervi dimenare un attimo? Sì, ma proprio da pazzi, verrai che faremo Che faremo? Eh, grandi scinti Ma domani non si lavora? No, domani si lavora e anche presto Aia, pure io lavoro presto Vabbè, ma guidiamoci questo venerdì, dai, un po' di svago ci vuole Si rischia di fare tutta una tirata, per cui è un tour de force È lunga allora, una notte lunga La giornata è lunga, sì Senti, ma questa bella donna qui vicino a me che si nascondeva con questi occhi bellissimi Non ti puoi nascondere, come ti chiami? Sì, Tatiana Senti, ma tu quale partner scegli per ballare? Io, lui, perché se no non mi riporta a casa Aia, sei obbligata a scegliere lui perché se no non ti riporta a casa? È il più bravo, è il più bravo È il maestro principe Dopo allora arriveremo anche da lui perché sta scappando, non so per quale motivo però Senti, invece il tuo ballo preferito qual è? Sempre la salsa È proprio una cosa da... Questa salsa, dopo devo vederla, ma me l'ha insegnata anche a me? Che cosa? Non ho capito È la salsa Sì, 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 la insegniamo anche a te, tanto è semplice Quindi non so, dai allora Si vede che sei una di quelle che la sa sballare, secondo me la sa Beh, io sono un po' più da reggaeton, dai Eh, va bene Ho svelato un piccolo segreto Va bene, allora, guarda, siete stati tanto carini a divertirvi insieme a me con i microfoni di Radio R9 Facciamo un saluto per chi ci sta ascoltando e li invogliamo a venire qua Dai, faccio chiudere a te Che gli diciamo? Li invidiamo, li invidiamo a venire, il locale si presta, c'è tutta bella gente e c'è tanto divertimento, per cui E vi aspettiamo Hanno detto tutto loro E vi aspetto anche io, Anna Laura, in diretta su Radio R9 dal Blu Max di Tortoreto Lido, la diretta continua, quindi, come dico sempre, non mi fate aspettare troppo A tra poco, amici Dal Blu Max di Tortoreto Lido, la serata latina è appena incominciata e devo dire che si stanno scatenando alla grande Radio R9 vi trasmetterà in diretta la musica di questa lunga notte e abbiamo iniziato a ballare Allora, Clarissa, fai vedere un po' come ballano tutti i nostri amici e quanta gente c'è qui al Blu Max Vediamo se qualcuno vuole giocare insieme a me ai microfoni di Radio R9 Buonasera Buonasera Come va? Come va? Bene, bene Ti piace il locale? Certo Ci vedi spesso? Certo Ok Qual è la danza che ti piace di più del latinoamericano? L'hanno detto prima la salsa La baciata La baciata? Quindi tra poco ti troverai cimentare Certo Senti, ma il Blu Max, tu abiti qui vicino? Abiti qui vicino? Sì Ci vedi sempre? Ogni venerdì si vede Va bene È enorme il locale È bello, molto bello Che cosa puoi dire a chi ci sta ascoltando su Radio R9? Che è il miglior locale della zona E poi, e poi? E poi nella zona E poi che li invogliamo E poi che li invogliamo a venire a trovarci Allora fammi un saluto per gli amici di Radio R9 Ciao Invogli a venire qua Com'è? Farli venire qua Venite tutte qua Ha detto tutto lui Va bene Ha fatto tutto È stato perfetto Vediamo se qualcun altro vuole giocare un po' con i microfoni di Radio R9 Vediamo un po' Questa bella ragazza Ciao Come ti chiami? Edizia Edizia, che fai qua? Bando Animazione? Sì dai, diciamo così Ah diciamo lavori Ci troviamo a far divertire la gente Lavori con animazione? Sì Con Rubio e Fabio e Pirata e Maglio e Giove e Spence Un sacco di gente Senti ma come funziona il gruppo di animazione? Quante ore vi allenate? Eh, loro si allenano, io no E tu che fai? Io vengo e ballo Ah perché tu ce l'hai Di solito Si allenano tantissimo però Tutte scuole sono Quindi Io faccio solo animazione Non sono una delle maestre Ah ok Però se volete Intervistate quella bionda C'è una maestra Va bene Allora dopo andremo a intervistare la bionda Senti mi fai un saluto per gli amici di Radio R9? Questo è il Blu Max Secondo me è la pista più bella Non è più bella Vai 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 Puoi dire quello che vuoi Guardate Solo il top Qua è solo il top Ha detto tutto lei Vi aspettiamo in diretta Radio R9 Dalla Blu Max di Tortoreto Lido A tra poco amici In diretta Radio R9 Dalla Blu Max di Tortoreto Lido La serata è ufficialmente iniziata Il venerdì latino che stavamo aspettando È partito alla grande La musica che ascoltate È in diretta Sempre su Radio R9 La trasmettiamo per tutta la notte Insomma ci stiamo divertendo E ci divertiamo Buonasera Buonasera Come va? Buona bene Ci stiamo divertendo? Sì sì moltissimo Ok Come trovi il locale? Ti piace il locale? Moltissimo Ci vieni sempre? Beh ogni tanto Cosa ti piace ballare di più? Eh la baciata più oltre Ahia Tutti con sta baciata Ma perché? Eh effettivamente mi piace la baciata Perché così puoi toccare La puoi un attimo La puoi stuzzicare Eh che bravi Quella d'ora Che ragazze Noi no Quelli degli altri sono più Vabbè gli altri poi ci andiamo Sono scappati Sono scappati Tu a te o là Sono scappati tu Sono più parlerini quelle là Vabbè dai piano piano ci arriviamo Eh Ok Senti mi fai un saluto per Radio R9? In voglia di venire Dili ciao Radio R9 Venite al Pro Max Vai Dove? In voglia i nostri amici a venire Ragazzi venite tutti al Pro Max Ha detto tutto lui Buonasera Buonasera Poi camminando da una folla Cammina cammina che cammina Qualcun altro lo troverò E trovo questo bel ragazzo Ma buonasera Buonasera Ma tutto solo soletto Cosa fai qua? Niente guardo Stai osservando la situazione? Abbastanza sì Come lo trovi il locale? Bello Molto largo Spazioso C'è posto per tutti? C'è posto per tutti Purtroppo meno per me Però vabbè Vabbè piano piano vedrai che ci sarà anche posto per te No c'è un'amica che mi ha fatto vestire male stasera E vabbè Quell'amica poi La vogliamo salutare? Sì la saluto Anna Papera Ma che nome ambiguo Va bene Senti ma Qual è il tuo ballo preferito Del latino americano? A me piace la baciata tanto Ma questa sera tutti la baciata Ho detto al signore prima Ma volete imparare la baciata perché così potete toccare? No non è per quello È più un movimento di bacino che mi piace a me Andiamo di bacino Molto bene Molto bene Com'è il tuo nome? Anthony Anthony allora Facciamo una cosa Adesso facciamo un saluto per Radio R9 E li invogliamo a venire al Blu Max Dai pensaci tu Io? Mi dai questa responsabilità? Sì Allora Un saluto alla Radio R9 Venite qui al Blu Max Venitevi a divertire Qui con loro E con tutti i proprietari Un bacio È stato carinissimo Anthony Vediamo se qualcun altro vuole giocare con i microfoni di Radio R9 Buonasera 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 E' bellissimo E' pieno di gente E' alternativo Ci si diverte molto Oh bene Vediamo invece come ti chiami tu? Alessandro Alessandro allora Ho chiesto di tanto al tuo amico Se mi descriveva un po' il locale Per vedere com'era la serata E per chi stessa in macchina E non sa dove andare E quindi lo dobbiamo invogliare a venire qua Devono venire tutti al Blu Max Dove c'è Fabrizio e Rubio? Ah Hai fatto lo sponsor ufficiale della serata Senti ma non ti stai dimenando in pista? Come? Non ti stai dimenando? Già ho fatto parecchi balli Ora mi riposo un attimino Stai bevendo? Che ti bevi? Un americano Ah Andiamo leggeri Senti mi fai un saluto per Radio R9? Ciao Radio R9 Allora venite al Blu Max Che ci si diverte C'è tanta bella gente Ci sono questi ragazzi E che dire Vi stiamo aspettando Donna Laura è pronta Vi dà il benvenuto in questo venerdì sera Vi aspetto in diretta su Radio R9 A tra poco amici Allora Buonasera Buonasera Mi ti chiami? Pierpaolo Che fai qua? Allora ti stai divertendo? Sì mi diverto Vengo spesso a ballare qua Perché è un ottimo locale Mi trovo benissimo Soprattutto è composto da un'ottima animazione E tutti e tre i DJ E in particolare Voglio citare Fabrizio Rubio Ferri Perché è capace a intrattenere la gente E soprattutto mi piace anche perché è molto simpatico e scherzoso Ah ma hai detto tutto Hai fatto una pubblicità perfetta Senti ma non balli questa sera o ancora è presto? No no ho cominciato a ballare Ma un attimo sono in fase di riposo perché ho fatto tanti palli consecutivi Paciare e poi tre salze consecutive E quindi per il momento sto fermo Anche perché la scorsa settimana non mi sono allenato per niente Tra virgolette Ma tu fai le gare perché balli proprio a livelli professionali? No le gare no però siccome sono dieci giorni che non ballo per niente Quindi ballare improvvisamente sette palli consecutivi non è semplice E' venuto il fiatone, il fiatone Ci vuole il fisico Esatto però E tocca andare a ballare questa bella campione Ma infatti da poco quando ricomincia la baciata ricomincio subito Un po' di riposo ci vuole sempre Va bene allora senti Sei stato così simpatico Che ti faccio fare un saluto per gli amici di Radio R9 E li invogliamo a venire qui questa sera al Blu Max Dai chiudi tu in bellezza Fai tu la chiusura Ragazzi vi consiglio a tutti di venire al Blu Max Perché è un ottimo locale Soprattutto è costituito da un'ottima animazione Se avete opportunità veniteci perché vale la pena Buonasera da tutti Ah è stato perfetto il nostro amico Va bene allora vediamo se qualcun altro vuole giocare insieme a me con i microfoni di Radio R9 Facciamo un giro e vediamo quello che succede Allora buonasera Buonasera Non si può ballare Allora devi fare Vediamo di qua che si dice Buonasera Buonasera Senti come trovi il locale ti piace ci vieni spesso Sono due o tre volte Bello bellissimo Conosci Radio R9? Sì c'è Anni Schiuma Non proprio Ma non ci ha capato la gatta Beh no però siamo in diretta puoi rimediare vai Beh sì ma radio frizzante Da questa sera ci conosci quindi memorizza questa faccia Frizzato Benissimo mi fai un saluto per gli amici di Radio R9 invogliamoli a venire qua dai Eh venite è bello rispetto alle discoteche è molto più bello Come ti chiami? Non mi ricordo di preciso Non ti ricordi come ti chiami? No Lo chiameremo Alfredo Va bene allora Continua la diretta su Radio R9 Alfredo è stato così simpatico Che ha voluto giocare con noi E vi dico che Il Blue Max è nel pieno delirio Anna Laura è in diretta su Radio R9 Quindi per chiunque è in macchina Non sa dove andare E vuole venire a trastore In una piacevolissima serata insieme a noi Quindi vi dico Raggiungiteci al Blue Max Perché qua è pieno 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 di gente E ci stiamo tutti divertendo In diretta sempre su Radio R9 A tra poco amici Radio R9 dal Blue Max Di Tortoreto Mamma mia quanta gente Come ci si diverte Come si balla la grande E ci stiamo divertendo Il venerdì sera che ci piace Il venerdì sera latino Radio R9 vi fa compagnia In queste bellissime serate E vediamo un po' di proseguirla alla meglio Vediamo se qualcuno vuole giocare un po' Con i microfoni di Radio R9 Buonasera Buonasera Ti ho incastrato Come va la serata? E' stupenda Stai bene? Stai divertendo? Sì, sto divertendo Vieni spesso qui? Quasi tutti i venerdì, sì Ah, ok Sei un habitué Com'è? Sei un habitué allora Ah sì, è vero, sì Senti, qual'è la musica che ti piace di più Tra tutto il latino? Guarda, la musica che io preferisco Un po' di tutto Comunque quella mia preferita Che amo di più È la salsa classica Tipo il solo L'uomo ancora La bacianga Anche se tutto il resto è bello Ma fai scuola di ballo? Certo, sì Faccio un po' di ballo, sì Vuoi sponsorizzare la scuola? La mia scuola si chiama Salsamigos Vuoi salutare qualcuno? Eh, tutti i miei amici I miei insegnanti Che stanno qua Grazie Allora, fammi un saluto Per gli amici di Radio R9 Allora Saluto tutti quanti E auguro una buona sera Da tutti quanti In voglia di venire qua, dai Sì In voglia di venire Come? In voglia di venire qua Esatto Ok Va bene allora Il ragazzo è stato simpaticissimo Si è perso sul finale Però dicevo che c'era, c'era Le intenzioni erano buone Ciao Alice Che fai qua? Niente, ballo Balli? Ma balli perché ti piace O per la scuola di ballo? Per fare la scuola di ballo Addirittura La vuoi salutare La tua scuola di ballo? Sì Come si chiama? La maestra Stefano Allora, fai un saluto Alla maestra Stefano Vieni al Blu Max Maestra Non stare a casa Che ti stiamo aspettando È vero? Oh che carina Anche lei viene e si diverte Qui al Blu Max Ce l'ha un po' per tutti i gusti È una serata piena Quindi per grandi e piccini Vi aspettiamo in diretta radio R9 A tra poco In diretta radio R9 Dal Blu Max di Tortoreto Siamo sempre qua Siamo sempre qua Eh vieni qua Come no? Vieni qua La prima volta che vengo Buonasera Tanta gente Buonasera Buonasera Ok Iniziamo dal principio Come ti chiami? Marco Marco Allora come va la serata? Benissimo Bene Ti stai divertendo? Tanto Ok Tanta gente Bella gente Cosa possiamo dire agli amici Che ci stanno ascoltando? Del Cosa possiamo dire a chi ci sta ascoltando da casa Oppure in macchina Comunque che ascolta la radio? Che secondo me qui una Possono venire a divertirsi tranquillamente Perché c'è tanta bella gente E ci divertiamo tanto Ok Il locale com'è? Descriviamolo per chi non lo conosce Descrivilo un po' va Eh beh Descrivo Io la prima volta che vengo qui Eh Desca appunto Meglio Grande Bello Eh Grandissima pista Si balla benissimo Si beve bene? È bevuto? Benissimo Oh Allora questo è il locale perfetto Perfetto Venerdì prossimo ci torniamo Se possiamo Io se posso sì Allora fammi un saluto va? Ciao a tutti Bene È andata è andata Come no? Allora Il ragazzo non ricorda che Siamo in diretta su Radio Renove Però Non la manderemo Ne manderemo un pezzettino solamente Vediamo se Oh Che belle donne Finalmente Come ti chiami? Denise Arianna Giada Allora voglio adesso Una descrizione accurata di questo locale Dovete invogliarmi tutti a venire qua Perché Gli maschi non c'hanno safà I maschi sono proci Tutti? Tutti? Tutti Perché stanno là così E non li invitano È un ballo alla fine Mannaggia Ma come? Mannaggia santa Allora Le ragazze Non le invitano Voi vi dovete mettere a bordo pista così E dovete ancheggiare E non vengono? No Fai un appello Fai un appello a questi uomini Dovete invitarci a ballare? Alla fine è un ballo E poi la cosa nasce cosa Tu invece che dici? Ci penso un attimo Bene Questi sono i silenzi Noi siamo in diretta Non puoi pensarci Perché la gente che ci ascolta Dimmi tu va Aspetta aspetta Vediamo che mi dice lei No vabbè dai È una bella serata Diciamo Non rilassante Ma Potrebbe andare meglio Ecco Non Perché vi dovete scaldare Scaldare Il fatto è che i maschi Sono tutti pali Ci siamo fatti un giro del locale E stanno tutti così Ma dico io Anche se le donne si atteggiano Magari In modo sensuale Così però Non reagiscono È quello il problema Allora qui adesso Vale La proprio dovete dominare Quindi se loro non vengono Andate voi e gli fate A bello Andiamo a ballare Questo è un appello È un appello per tutti i nostri amici radioascoltatori Si fa così Come si dice? Come si dice? È ragazza Non si attenta A bello A bello Invececi a ballare Ecco vedi È perfetto Allora facciamo un saluto Dai facciamo Vediamo se qualcuno Volete salutare qualcuno in particolare Dai siamo in diretta Gli amici a casa Fai qualche nome? Alberto Non lo so Alberto Che secondo me non è un amico No No vabbè il mio cavo veramente Ai 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 E poi Ci deve pensare? Allora io saluto i miei amici Soprattutto Yuri Chantal E anche la mia famiglia Che bello La mia famiglia sempre Allora fatemi Quello puoi fare anche tu Un saluto in gruppo Dicendomi Un saluto a Radio R9 E venite al Blu Max Uno due tre Un saluto a Radio R9 E venite al Blu Max Oh L'applauso Vabbè hanno fatto tutto Guarda Sono delle ragazze bellissime Bravissime Simpaticissime E le ho prese tutte io Radio R9 Continua la sua diretta Iniziano i balli di gruppo Qui a Tortoreto Guarda che spettacolo Vai vedere i balli di gruppo Come si muovono L'animazione è iniziata E siamo pieni pieni Senti ma come va Come va sta serata Molto bene Devo dire Quante foto hai fatto Quante foto hai fatto Mi raccomando Venite numerosi Guardate Perché è veramente Belle serate Solo da Blu Max Vabbè allora Ti lascio lavorare Fammi un saluto agli amici Buonasera R9 Vi aspettiamo Mi raccomando Blu Max E vederti latino Numeri uno Hai tenuto lui Vabbè noi ci divertiamo un po' Balliamo un po' Dai va bene Buonasera Come va Tutto a posto Stiamo divertendo Bambissimo Balliamo? Ora no Siamo in fase relax Che ci stiamo bevendo Analcolico Sembra analcolico Perché devi guidare Sì Vi fai un saluto per Radio R9? Allora Saluto Per Radio R9 Radio R9 Vabbè allora La serata continua Noi vi aspettiamo tra poco Per darvi la buonanotte Mi raccomando Rimanete sintonizzati Sulle nostre Frequenze Radio R9 Blu Max Tortore Torino In diretta dal Blu Max Di Tortore Come ti chiami? Ari Come va? Va bene la serata? Tutto bene mami Ti stai divertendo? Adesso Angelica mami Vabbè il signore è andato verso i nuovi mondi Vuoi dire qualcosa in particolare? Vuoi dire qualcosa? Siamo in diretta Vuoi dire qualcosa? No io saluto mia figlia E da papà Ti voglio bene Non so neanche decifrarlo Mami Ok Io non ho capito niente Però è andato a bere lo stesso Qua continuo da ballare Io vi dico che Vi saluto Vi aspetto domani Sempre in diretta Su radio R9 Dal Macramè Di Alpatriatica Quindi Per la serata Di questa notte Vi do La buonanotte Vi saluto E vi aspetto Domani sera Mi raccomando Sempre su radio R9 Ciao amici Buonanotte